Pazzo! Un tabice non è bestia! C'è chi è il Buddha? Siero! Facciamoli facili! C'è chi è il Buddha? Siero! Eka... C'è? C'è chi è il Buddha? No! C'è chi è il Buddha? E' Siero? C'è chi? E' testa di minchia! Ahahahahahahaha Siero è che Yay Browning gira il video anche per i muti Ora Ivan vi mostrerà tutti i segni dell'alfabeto in codice MUSO Cameretta! Fai cameretta! Siamo in Riot Abbiamo fatto un video ieri Stiamo a montaggio da tutta la giornata Abbiamo fatto uno street video con un video, veramente è un mountain video è un mountain video dove tutto tace e gli ocellini finiti dove tutto tace c'erano delle cicale che scastravano la minchia proprio stai cariando come cazzo si chiama la canzone scusa? non lo so e vabbè insomma in due giorni così abbiamo detto che cazzo si fa vabbè saliamo in montagna abbiamo preso una traccia a cazzo un montaggio a cazzo come si chiama la canzone? no lo so la canzone è il nome è il nome non mi lasci parlare ma com'è il ternino? è una cosa grandiosa è grandiosa, è grandiosa veramente ci siamo stati un pomeriggio e poi il montaggio? un giorno e in due giorni abbiamo fatto una traccia le tracce le tracce mi riferimento a cose persone è puramente casuale spazio a seconda te si sente più spazio da carini in radio con la loro demenza grazie a tutti grazie a tutti